Pian pianetto le nazioni africane stanno immergendo anche in discipline che non sono il mezzofondo. L'ultima novità riguarda il Senegal, perché l'ostacolista Louis-François Mendy ha corso i 110 ostacoli in 13-18, aiutato con un più 1,0 di vento a favore, diventando così il detentore del record senegalese e anche il secondo africano di sempre nella specialità, a soli 7 centesimi dal sudafricano Antonio Alcana che l'aveva realizzato nel 2017. Tra l'altro Louis-François Mendy diventa anche il primo atleta nella storia del Senegal a qualificarsi per i campionati mondiali di atletica. Probabilmente questa è veramente una gara in cui tutto gli è andato a meraviglia, perché nelle altre sette gare che ha fatto nel 2023 non era mai neanche riuscito a scendere sotto i 12-33. Quindi non è per nulla certo, anzi appare molto difficile la cosa, che riesca a confermarsi nel breve periodo sotto i 13-20. Figuriamoci riuscire a migliorarsi nuovamente. Poi magari succede, buon per lui, ci mancherebbe. Però mi piaceva farvi notare che sempre più spesso stiamo vedendo atleti provenienti dall'Africa che non fanno solo mezzofondo ma anche cominciano a fare veramente bene in altre discipline. Poi vabbè, il Senegal al momento non se ne è anche mai visto nella storia dell'atletica, quindi è proprio una nazione totalmente emergente. E vedremo se nel prossimo futuro altri senegalesi riusciranno a emergere un pochettino sul quadro internazionale o se semplicemente Mandy è stato l'atleta di punta, il super talento prodotto una volta ogni mille anni, un po' come i Super Saiyan, però anche quelli nel tempo sono aumentati. Ma questo è un altro discorso. Ti ricordo di seguire i periodi di atletica se non vuoi perderti altri contenuti simili e ti ringrazio se lo stai già facendo o se lo farai da questo esatto momento. Ciao ciao!